Il sindaco si appresta a tagliare il nastro, facciamo un grosso applauso per questo magnifico campetto realizzato. Il sindaco si appresta a tagliare il nostro obiettivo, facciamo un grosso applauso per il nostro obiettivo. Il sindaco si appresta a tagliare il nostro obiettivo, facciamo un grosso applauso per il nostro obiettivo. Il sindaco si appresta a tagliare il nostro obiettivo, facciamo un grosso applauso per il nostro obiettivo. Il sindaco si appresta a tagliare il nostro obiettivo, facciamo un grosso applauso per il nostro obiettivo. Il sindaco si appresta a tagliare il nostro obiettivo, facciamo un grosso applauso per il nostro obiettivo. Il sindaco si appresta a tagliare il nostro obiettivo, facciamo un grosso applauso per il nostro obiettivo. Il sindaco si appresta a tagliare il nostro obiettivo, facciamo un grosso applauso per il nostro obiettivo. Il sindaco si appresti il nostro obiettivo. Il sindaco si appresti il nostro obiettivo. Il sindaco si appresti il nostro obiettivo, facciamo un grosso applauso per il nostro obiettivo. Il sindaco si appresti 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 il nostro obiettivo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.